A nemmeno un mese dall'addio alle suore della congregazione delle ancelle di Santa Teresa del Bambin Gesù, al convento di San Francesco di Vibonati, di proprietà del comune, tranne la chiesa all'interno, potrebbero arrivare le missionarie di Sant'Antonio Maria Claret, di cui è stata esponente di spicco Suor Leoni Ammilito, originaria di Sapri e in odore di santità. Almeno questa è l'intenzione del parroco di Vibonati, Don Martino Romano, il quale ha inviato al sindaco Franco Brusco una lettera in cui comunica di aver avuto contatti diretti con la responsabile provinciale delle suore claretiane. Lo stesso Don Martino, nella missiva indirizzata al primo cittadino vibonatese, chiede di confermare quanto scritto nella lettera aperta dello scorso 31 maggio alla madre generale delle ancelle di Santa Teresa di Gesù Bambino, ossia l'impegno dell'amministrazione a lasciare a titolo gratuito la struttura di 640 metri quadri per continuare a svolgere, si legge nella lettera, la consueta e meritoria opera a favore della comunità vibonatese.